ore 17.05 qui si vede un rogo che hanno appiccato circa 20 minuti fa e qua la scia di fumo che raggiunge ormai Pozzuoli in direzione Pozzuoli di Icola questo è un piccolo rogo che è scaturito di giorno e che dopo le nostre segnalazioni avviene in pochi minuti e poi sparisce non sappiamo cosa succede di notte